Cari ascoltatori di Radio Fuggino NER, benvenuti a Notizie Flash. Parliamo di una notizia di grande importanza che sta scuotendo il panorama politico americano internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha appena annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Con una lettera pubblicata su Instagram, Biden ha comunicato agli americani la sua decisione, definendo il suo mandato come presidente il più grande onore della sua vita. Biden, 81 anni, ha spiegato che dopo un'attenta riflessione, ritiene che sia nel miglior interesse del suo partito e del paese che lui si ritiri. Servire come presidente è stato il più grande onore della mia vita. Ora però è nel miglior interesse del mio partito e del paese che io mi ritiri, ha scritto il leader democratico. Questa decisione arriva naturalmente dopo settimane di crescenti pressioni su Biden affinché facesse un passo indietro a favore di un candidato più competitivo contro Donald Trump. La scarsa forma fisica e la lucidità del presidente erano state messe in discussione. Mi domando però se non è buono, tra virgolette, per fare il prossimo presidente degli Stati Uniti, perché dovrebbe essere buono oggi per farlo? Nel senso, se non va bene che lui si candidi nelle prossime elezioni, dovrebbe dimettersi direttamente in questo momento da presidente, se non è in grado, non è in grado nemmeno di fare il presidente ora, secondo me, però forse sbaglio. Insomma Biden era stato messo in discussione specialmente dopo il disastroso dibattito televisivo contro Trump il 28 giugno scorso. L'attentato subito da Trump una settimana fa non ha fatto che accelerare il distacco fisico e nei sondaggi tra i due candidati in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo. Nella sua lettera, datata 21 luglio 2024, Biden riflette sui progressi fatti dal Paese durante il suo mandato, toccando temi come la crescita economica, la sanità, il clima, la lotta contro la pandemia e i successi in politica internazionale. Con parole commosse ha dichiarato che, sebbene fosse sua intenzione cercare la rielezione, crede che il ritiro sia la scelta migliore per il bene del suo partito e del Paese. Biden ha promesso di parlare alla nazione nei prossimi giorni per spiegare in dettaglio la sua decisione. Ha anche espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno lavorato per la sua rielezione. Nel suo messaggio Biden ha menzionato la vicepresidente Kamala Harris come sua potenziale erede, definendola una partner straordinaria nel lavoro svolto fino ad ora. Questo endorsement per la 59enne californiana era atteso da giorni, poiché Harris è vista come la naturale successora di Biden nel caso di un suo ritiro che ora c'è stato. È ufficiale. Biden ha infine voluto ringraziare il popolo americano per il sostegno ricevuto, sottolineando la forza e l'unità del Paese. Credo che oggi ciò che ho sempre creduto, credo oggi, scusate, ciò che ho sempre creduto, che non ci sia nulla che l'America non possa fare se lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordarci che siamo gli Stati Uniti d'America, ha concluso il presidente. Questa storica decisione segna un momento cruciale per la politica americana, con implicazioni significative per le prossime elezioni presidenziali. Restate sintonizzati su Radio Puginon Air per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie con le nostre notizie flash. Grazie per averci ascoltato al prossimo episodio di Radio Puginon Air.